oggi vi mostro come preparare il burro chiarificato è un burro al quale viene eliminata la parte acquosa ovvero il siero che solitamente è presente in una percentuale che va dal 18 a 20 per cento ampiamente utilizzato in cucina sia per realizzare salse emulsionate come la salsa bernese o la salsa olandese ma anche per cottura al salto come per la scaloppina o per fritture piatte ovvero quelle fritture che non necessitano di temperature elevate come potrebbe essere la cotoletta la milanese è indispensabile in questo tipo di cotture poiché essendo privo di acqua il burro chiarificato può essere portato a una temperatura più elevata infatti se un burro tradizionale raggiunge un punto di fumo intorno ai 130 gradi il burro chiarificato può essere portato a una temperatura di 160 il procedimento per realizzarlo è piuttosto semplice basta mettere il burro in una casseruola e lasciarlo fondere a fiamma molto delicata magari lo riduciamo in pezzi più piccoli in modo che si scioglie prima non si surriscalda troppo possiamo seguire questa operazione anche a bagnomaria oppure utilizzando il microonde una volta che il burro si sarà sciolto bene spegniamo e togliamo la casseruola dal fuoco a questo punto per separare la parte grassa dalla parte acquosa del burro utilizzeremo il principio del peso specifico man mano che il burro si intiepidisce la parte grassa più leggera fiorerà in superficie mentre la parte acquosa più pesante si depositerà sul fondo a questo punto possiamo trasferire il burro in un contenitore lo travasiamo ponendo molta attenzione a non trasferire anche la parte acquosa eliminiamo però prima la schiuma che si è formata in superficie effettuiamo questa operazione delicatamente quando vediamo affiorare anche il siero ci fermiamo a questo punto il burro chiarificato è pronto per essere utilizzato oppure possiamo conservarlo in frigorifero e disporne all'occorrenza si conserva per un periodo più lungo del burro tradizionale un altro modo per separare la parte grassa da quella acquosa è quello di raffreddare il burro sciolto in frigorifero in questa maniera il grasso che in superficie solidifica e si separa dalla parte acquosa liquida che si depositerà sul fondo andrà comunque prima schiumato e poi lasciato riposare in modo che le due sostanze si separino è un metodo questo molto più rapido soprattutto più comodo soprattutto se utilizziamo il microonde così sporchiamo un solo recipiente non dobbiamo effettuare travasi come si è visto chiarificare il burro è un'operazione semplice piuttosto veloce ma se si preferisce si può utilizzare quello già pronto commercializzato con il nome di burro concentrato un saluto e al prossimo video